Festeggia quest'anno i suoi primi 40 anni di vita l'Associazione degli Umbri, ma di che cosa parliamo esattamente? Parliamo di un'associazione culturale di privato sociale che si occupa di veicolare a livello nazionale i valori di una regione che ha espresso tantissimi importanti valori di solidarietà, di convivenza civile, di religione nel senso di religio, tengo insieme le persone su basi di memoria, tradizione, solidarietà, accoglienza. Dal 2001 si svolge ogni anno il premio Umbria a Roma, che cosa è opportuno sottolineare rispetto a questo appuntamento? Magari si può anche anticiparci qualcosa in più rispetto a quella che sarà la prossima edizione. Intanto vi anticipo la data che il Consiglio è già stabilita del 4 giugno e vi aspettiamo. Poi posso anticiparvi che quest'anno è un premio particolarmente importante perché si tratta del quarantennale della fondazione dell'Associazione. Quindi stiamo cercando di valutare se aumentare il numero dei premiati, con qualche criticità, perché qualche consigliere ritiene che aumentare il numero significhi diminuire l'importanza del premio. Ma la proposta che è stata fatta è quella di dare dei premi ai giovani. In ogni edizione i giovani ci sono e sono stati premiati, ma in misura minore rispetto a personaggi che hanno già una loro caratura sociale, culturale e professionale. Quindi il premio vuole confermare quello che dicevo poco anzi, cioè che certi valori che la Regione Umbria rappresenta in maniera importante sono incarnati dalle persone e queste persone vanno premiate.